E' stata conferita nel corso della seduta consigliare di giovedì 12 gennaio la cittadinanza onoraria di Ercolano al maresciallo capo dei carabinieri Angelo Di Santo per il lavoro svolto nella lotta alla criminalità e alle estorsioni in città. A Ercolano ci sono stati 500 arresti e 44 ergastoli, un risultato straordinario ma non bastano le denunce, non bastano le condanne giudiziarie, c'è bisogno che la politica si assuma le proprie responsabilità, c'è bisogno di investire nella scuola e spiegare ai più giovani che lo studio è l'unico vero ascensore sociale e che il futuro di Ercolano sta nel turismo e nella sua straordinaria bellezza. Ringrazio l'arma dei carabinieri che mi ha dato la possibilità di ricevere questa attestazione che è un'attestazione non solo mia ma di tutta l'arma dei carabinieri, di tutto il gruppo di lavoro di cui io ho fatto parte per più di 10 anni. E' stato un lavoro di squadra dove tutte le componenti, l'arma dei carabinieri, la stessa amministrazione che si è trovata a fronteggiare anche quegli anni tristi dove la camorra purtroppo imperversava sul territorio, e le anti-racket, i commercianti che sono stati la vera forza che ci ha dato la possibilità di andare a demolire un sistema criminale che si era insinuato nel tessuto sociale ed economico soprattutto di Ercolano. Alla cerimonia erano presenti le forze dell'ordine, la vice prefetto Corinne Palumbo, il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts Pound, Pierparolo Filippelli, procuratore aggiunto a Napoli, e Nunzio Fraiasso, procuratore della Repubblica Torre Annunziata, il sindaco di Gragnano, il segretario di Anci Campagna, Gnillo Dauria e i rappresentanti dell'associazione Fai Anti-Racket. È un momento estremamente significativo, è il riconoscimento di un egregio lavoro fatto da un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri sul territorio di Ercolano, che attualmente è molto impegnato nel comune di Gragnano dove comanda la stazione dei Carabinieri, ma è un viatico per il futuro. È la dimostrazione che le istituzioni, se sono coese, se agiscono sinergicamente, possono contrastare efficacemente ogni forma di criminalità organizzata e non.